A me devo dire che mi piacciono molto Non sono improntati molto sul ridere Questo lo riconosco anch'io Però sono molto chill secondo me Invadiamo Da qui 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 Ah sti cazzo di si Sono montati da cazzo di gara Non si capisce l'applico di un momento Per entrare come tutta la costruttiva Ah non li faccio io mate Dio cane trash bastardo Non dovevi flashare te Devo flasharti solo trash Super per super ti vinciò alla bot Nel senso a me con la mia non avrebbe flashato Vel'Koz Capito No con la vorrebbe flashato Mi pienso Ah metto questo guarda che lo scriviamo assieme Prima non ho bisogno di eri molto credente Sono ancora credente guarda 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 qua No questo è il ferro di cavallo Guarda Tanto la Q unirlyam controlla che non mi serva a niente E il flash invece si Il flash forse si Forse ti dico forse In questo livello matchup forse si Guarda Minchia è una serie a scattiverlo eh Forse si in sto matchup Minchia è electrocute Si stanno cento due con gap Ecco Olaf Ha iniziato il nostro blu può essere sai Prolly si non glielo voglio dire Oh mate Che in starta da solo i raptors Eh si ma Olaf è venuto la nostra bot Probabilmente ti voleva accedere dal bush Come se di finestra sia dal blu dici Oppure dopo l'invento tu che si arrivi non so C'erano abbastanza opzioni C'erano abbastanza opzioni Qua ha sbagliato a fare la cosa nei bruttomori Eh perchè poi Kayn è anche topside Dato che fa fino al 3 top Quando facevo Cioè quando avevo appena iniziato sto account Che avevo il Wii Raid da Madonna Da Imon 2 Facevo duo con uno Che si chiama Bananito Che appunto è una di carri della Liga Greca E ora è tipo Challenger 600 LP Porco vinci Nice Ok Yes Non volevo che il counter gankasse lì Principalmente era quella la cosa Perchè saremmo morti Nel counter gank Gli siena trollato Doveva venire a me Ma Ho provato a fare Giorgio Non ha freghi All'arco Ah ha trollato Lo ghi no? Sì Quanto odio che Old 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 Ho sbagliato perchè Quando sei in casting Della W E' una merda Che non puoi creare lei Se mai dovessero cambiare sta cosa Gragas diventerebbe Fucking broken In che immagine Holy No lo so favoloso Per ridere magari Notte notte Sì abbiamo fatto una buona cosa Qua ho preso il sostanzio i minion Hanno fatto sì che lui non prendesse le sette di Q subito Solo in caso in cui potreste riprenderlo Abbiamo prima volta primo game che abbiamo il jungler bravo E mate? Se già ne aveva giocato bene Ah è vero è vero è vero Madonna Adesso è proprio un campione pesante Sai non lo so se sono il miglior fiore italiano che ci sia Forse Xbox Non so Sei il miglior fiore italiano mate fly down Eh? No è una domanda che hanno fatto in chat Chi è che gioca i fiore in Italia? Italiano Ma non lo so ma ci sarà qualche challenger italiano che gioca a fiore Eh non lo conosco però Facciamo il 6 Mentre Antonio No 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 Si chiama mid e meno di care Oh ma è buona ma ho un scenderio Ho pure trollata cazzo Prova Mate Tabbio shin Vediamo se sei bravo Si è Bravo mi piace Mi piace ma hai ragione Non sono the game mate Oddio A mezzo Un'altra mappa Non bisogna Non bisogna Non bisogna Un po' toxic Gabbo Io farei fare una sfida a un orso sonno dei game Jacopo E dei game Gabbo Non ci son campioni che giocano Gabbo inutile che stuze Vabbè mette Vabbè vado una sfida 1v1 Mondo al Baron Bo Altro non la faccio Do con te Ahia Falle in testa Ma se falle in testa Devi rispondere In maniera Verbale Ti avevo chiesto Una volta per dire No una cosa Già faccio Do più col miglior Top planet D'Italia Che mi serve Fare do più con te Così dovevi rispondere Ma con Jacopo Non posso essere toxic Cioè Non sei te Per dire Sono un coglione Ah Raga Fiora vs Fiora Credo che sia l'uno vs uno Che non ha Non ha proprio senso far Cioè È vital Ma non è solo quello Cioè Non è proprio skill Ma anche Anche ziria Le ziria Yasuo contro Yasuo Suo matchup Che non hanno senso Sto campione è bro Che ne sai Arrivo a mid Ce l'ho avuto tra poco Se vuoi Ora vi faccio una coma Non devo risparare A fare le coma 14 secondi Io non so Se lo ha il flash Interessi Faccio a Giorgio E arrivo a mid Se ti aspetto un attimo Hanno preso la piantina Arrivo Dopo quella Dove Sto arrivando Sto arrivando Mentre ci sono Ci sono Esisti Ci sono Beh Li ho belli Outplayati Dove E proprio Mandati al baretto Nice Buona mano No 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 ulti o no va capì c'è l'inferno un'altra un'altra un certo di che mi faccio ma come mai non giochi mai e perché ritocco me già si regia fiore e perché non fanno per me cioè io preferisco più uno da bruise or netton ma poi c'è una leggenda dicono che tanti sono da posti ma io ti assicuro che è più da posti giocati in regia che un tank sai dipende certo di tanti dipende dal match up ovvio se loro c'hanno fiore dici invece di prendere jacks e prendo poppy e allora se una cazzo di fighetta ovvio voglio regalare col figgio e ninja d'hubb ragazzi quindi deve essere un'altra wave anche se è bad perché ho un ottimo timing qua per regalare però sarebbero 1.350 poi c'ha uno che quando gioco a gregas jungla lo gioco a full tank ora regaliamo i tank sono per un super people io vi assicuro che secondo me è vabbè se prendi moca interloi però ti vuoi male mate secondo me invece i tank sono molto i tank tra virgolette è vero che gli hyper carry sono più meccanici ma i tank sono molto più complicati da usare perché tu non devi pensare solo a te stesso come gli hyper carry devi pensare a te stesso e agli altri quando giochi i tank cioè io che gioco entrambi io gioco sia tank che hyper carry e mi trovo molto più facile tra virgolette giocare gli hyper carry rispetto ai tank a me ci sei venuto in ta riesco a capire vabbè vabbè quello c'ha 56 farm ah si no però vabbè ho aver stegliato ho aver stegliato veramente sto andando un po' bene e fegato vabbè la storia di solito stai a dormite vero no perché devo studiare dopo che dici di a storia? no italiano che cazzo di studiare l'italiano? mmm boh leopardi già comune già comune però tanto la studia in classe cioè quindi easy ammette sai che leopardi non so se tu lo sai no vabbè aspetta hai già studiato l'annunzio? l'annunzio allora quando studiare l'annunzio? chiedere la professoressa professoressa ma è vero l'annunzio? si è tolto una costola si dice togliere una costola per farsi i bocchini da solo è una leggenda dei bocchini da solo se l'è tolta per farsi inculare meglio da chi? loopardi bravo mi sapevo appena trollato mate no giochiai questo home mi rispetta muro da chi l'acqua alla cazzo arrivo mid ok c'è la mia ulti non lo uccidiamo fatti ingaggia fatti ingaggia fatti ingaggia fatti ingaggia fatti ingaggia mi hai portato verso di me? ultalo verso di me? non c'è la ulti eh lo prendo lo prendo mio torno top vieni bot vieni bot vieni bot no bush o milio non becco tp tp bot tp bot tp bot arrivo occhi sulla mappa dai come on oh l'ho ultato quell'altro? non l'ho preso gain voglio prendere l'assistio gain vabbè regalo voglio prendere l'assistio gain fuck in realtà vabbè lo prende pure delco a scuola ulti però era principalmente per prendere l'assistio gain holy shit what a jungle difference non so se fare forse controllo se mi conviene fare tirare anche invece che ero non sa anche se sono tanto fiddato però o l'ho fatto due damage quindi andremo di comunque ora gain è veramente broken come campione form assassin l'annunzio lo suonava pure di quelli delle vagine che si scopava che de god l'annunzio aveva problemi e pensa che noi lo abbiamo sui libri di scuola ottimo ottimo amazing true oh testate cazzo dai fammi una q fammi una q fammi una q minchie ma come serve la q guarda proprio senza q l'ho fatta apposta me l'ho troffelata per sbaglio ma perché non so da ulti via per l'amore del cristo redentore ma sto campione chi saras mamma non ha cooldown holy fuck stra broken mi faccio una gomma mi faccio la sgap dai bella paga x100 dai bella non c'è neanche voglia di impegnarmi c'è già vinto c'è questo è già di uno a vero se mi vuoi stato di uno? me l'ho proprio scordato la prima volta che eri qui di uno? in stasason si ce l'hai fatta proprio facendo tu con me mamma mia proprio in 2.71 c'era arrivato un solo però solo così già potevi fare una volta che non fai una stream 5.1 mamma mia l'altro ieri ho fatto 7.1 però vabbè ok let's be honest ah io devo rimanere in un momento dopo la riga di giochi ancora si se trovate a fare un altro game lo facciamo vediamo vediamo come andranno ma non c'è senso tra che porco comunque ho affellato veramente la mamma mia che giocatore c'è becco stop e te incommi mamma mia poveri regalo io sto qua ora che non passa uno che posso uccidere ma finchè non è guardato ma finchè non è guardato ah ma stiamo facendo il game meet è veramente guardo arriva anche in da bot side ho occhio non restate là che morite sicuro ho trollato arrivo arrivo no dai sto trollando top lo smetto vabbè dai meno male che c'è chi trolla di più poi si è veduto focus a kogmo hai giocato nel peggior modo possibile eh mate ho voltato solo game purtroppo perché mi si è messo tanti gli altri eh sì ma hai sbagliato secondo me ad andare avanti quando c'era kane nel lato ultimo perché sei andato avanti e ti sei fatto tra ma perché c'erano anche varus e trash diciamo è lì per lì non mi importa se focussano me il fight lo vinciamo se focussano me tra l'altro il motivo principale era quello comunque minchia kog ma kog quanto sta madonna la quince su kog è allucinante sale a scene height andato sto shodown da 1k eh il giro è questo dio uno scam si si può ancora perdere il game in realtà ma qualcuno che bagna col figlio di puttana di gengiscan e chi che ha detto? ma dice che sto trollando tiflamo ma guarda si a poca giocheremo domenica gaga ma come mai siamo acciati con i canzo mani? ma qui ci sono quelli dell'elominio e sono quelli delle tre divisioni più alte di chi vi ha scritto il messaggio tra l'altro tra l'altro 188 stepni allora me ne evado dai bello vieni mid dai bella facciamo un x100 andiamo a casa dai bella ragazzi quando uno streamer fa queste battle non si masturba non si deve masturbare non si deve masturbare non si deve masturbare ma che cazzo c'è per me oh dici quella clip è got ma vai gengiscan mi sta tollando io ve lo ultimo comunque non si deve masturbare ci sei mate? devi disturbare ci sei mate? ah devo andare eh? guarda qua non masturbare lo streamer oh save the key di A let's fucking go mate guarda qua oh dio l'ho visto l'ho visto mi hai ferrato la Q? o non avevi gli danni? no no l'ho fatto l'ail lì in su al posto che l'avanti Kog no flash per ridere potrei finire il game Saras è stato a patrolla forse no velco a strappò perchè Saras non non bisogna masturbare quando gioca non c'ho la ulti gain eh? non ce la fatemi stavate con se up raga rischi che quanto danno faccio? ma Saras che sta fa? oh si si sta entrolando c'è il baron tra poco volendo io ci so Kog io molte volte compro la Banshee solo per avere perchè con questa schiena è stra bella la Banshee giusto così 518 CS è bello ma a me sto game l'ho legit cioè è giocato per farlo mi ha vinto tanto da livello 2 in top occhio ci stanno qua occhio boh abbiamo tirato i jungler cioè lo sicuro io dai ho la combo ma stai sicuro? ma non c'ho bisogno di rischiare lo sicuro io c'ho la combo c'ho bisogno di rischiare cazzo c'hanno Vecco a Skogmo perdiamo il fight ho la combo non sto trollando se no perdiamo il fight è rischi come è che non lo sanno guarda che non è ward up sei la sebo visto? metti ma baffanculo vieni giù vieni giù vieni giù vieni giù Take it easy Ma si, Gab è stato là Minchia, sono un po' triste di averti portato a D1 Ancora Io regalo il tipo Tipo su... eh l'Arch Ha tipo su questo Perchè non ci lasciano finire? Never surrender, cazzo è mazio Minchia No, hai capito Olaf che ha fatto? No No, lo stavo... no, lo stavo pillando Perchè l'ho della stit? Sei un coglione, no no Vaffanculo Aspetta, devo mettere la musica adatta Devo creare l'atmosfera Addirittura Sì sì sì, state contento di D1 Questa qua è una festa per me Signori e signori Sono contento di dirvi Che dopo mesi E mesi Senza Arrivare a toccare il D1 Oggi signori Il 30 maggio Il 2019 Il Top King E' 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 Il E' Il Che È Grazie a tutti